Dopo i giorni di fermo che hanno paralizzato l'isola, le città siciliane tentano pian piano di tornare alla normalità. A Catania ad esempio si registrano ancora diverse lunghe code nelle aree di servizio per il carburante, dove permane una certa psicosi. La gente è un po' spaventata dal fatto che ci potrebbe essere uno nuovamente uno sciopero dei blocchi dei camionisti e quindi la gente è entrata nella psicosi più totale. Se tutto va bene dovrebbe essere normalità entro la fine settimana. Si contano pure i danni economici come al massi il mercato agroalimentare etneo dove si stimano oltre 2 milioni di perdite di fatturato. Ed oggi anche il presidente di Confcommercio Sicilia Pietro Agen è tornato sugli effetti della protesta anticipando anche un incontro sull'argomento che si terrà domani a Catania. Ma diciamo che ne è uscita male l'Italia, innanzitutto poi la Sicilia diciamo che è andata peggio dell'Italia. Abbiamo finito una settimana infernale, abbiamo cominciato con l'affondamento della Concordia di cui guardate oltre che le vittime, è uscita distrutta l'immagine dell'Italia, credo che abbiate letto le dichiarazioni di un giornale tedesco dove diceva che solo un comandante italiano poteva combinare un guaio del genere. Quindi distrutti come nazione, distrutti come regione perché siamo passati da richieste più che legittime a metodi di lotta assolutamente improponibili nel 2000. L'economia siciliana è stata massacrata. Ed infine, sempre stamani in Piazza Duomo, si è tenuto un corteo di protesta silenzioso dei pescatori aderenti al blocco. Eh sì, noi li aspetteremo il ritorno del governo siciliano a Palermo. Domani ci sarà una grossissima partecipazione di persone, mentre loro tratteranno a Palermo, noi a Roma li aspetteremo a Palermo. Dopodiché prendiamo le considerazioni, queste piccole manifestazioni che stanno avvenendo in tutta la Sicilia come dove ancora ci sono i presidi e semplicemente la presenza che questa lotta continuerà.